Eccoci allora, ben trovati a tutti, un nuovo video sul sito di Conflitti Dimenticati, Caritas Pax Christi, con un volto conosciuto, ma anche l'altro volto, quello che è molto più giovane, è un volto conosciuto lo stesso ed è un caro amico. Ecco, siamo con Don Fabio Corazzina di Brescia e Don Mattia Ferlari, che è un grande amico, anche se è molto giovane, facevamo il calcolo sugli anni, non stiamo a sottolineare la grande differenza. Mattia è un giovane prete della diocesi di Modena e non Antola e sta studiando, poi magari ci spiegherà lui a Roma che cosa, ma soprattutto è cappellano di Mediterranea. Magari ci spieghi tu chi sei e poi partiamo dal più anziano di voi due che è Fabio. Grazie per l'invita a essere con voi e appunto è per il piacere di essere con Don Renato e Don Fabio e grazie davvero. Io sono una delle tante persone che fanno parte di questa famiglia, di questa associazione, di questo movimento che è Mediterranea Saving Humans, che nasce nel 2018 davanti alla situazione tragica che c'era in mare e che perdura, ovvero la situazione di queste persone, donne, uomini, bambini che vengono abbandonate, che vanno incontro al naufraggio. Abbiamo avuto una vittima, tra l'altro una bambina all'ennesima proprio nei giorni scorsi, in un naufraggio nel Mediterraneo tra l'Italia e la Libia e soprattutto il fenomeno dei respingimenti, poi appunto ne parleremo, i respingimenti che sono stati affidati alla cosiddetta guardia costiera libica, così fortemente infiltrata dalla mafia libica. Io sono una delle persone che fanno parte di questa realtà, ho la grazia di accompagnare queste compagne e compagni che vengono da tanti mondi diversi, uniti da questo comune sentiere, da questa comune missione. Ecco, allora Fabio, siamo vicini al Natale, Mattia poi ci aiuterà magari a parlare proprio per loro, non c'era posto, ci dirà il Vangelo. Questo bambino così piccolo, indifeso, povero, che fa paura, che eccetera eccetera. Cosa ci suggerisci in questa riflessione? Noi stiamo registrando il mercoledì 21, a pochi giorni dal Natale. Sì, grazie Renato e ciao Mattia, che bello ritrovarci. Meno male che almeno uno dei tre seri, quindi entriamo nel merito. Stamattina Papa Francesco, nella sua catechesi, ci ha suggerito una riflessione sul rapporto fra i sistemi violenti e i bambini. La guerra, la violenza sistemica e strutturata ha una caratteristica che è assolutamente trasversale, cioè toglie il sorriso ai giovani, usate il sorriso ai bambini e toglie il futuro ai giovani. Due dimensioni sulle quali spesso noi facciamo finta di non vedere o non entriamo nel merito, a meno che vengano presentate delle immagini un po' pietiste, quelle che ci devono strappare le lacrime e il cuore, ma che non ci mettono nelle condizioni di approfondire ancora di più la nostra sensazione di incapacità e di impossibilità di intervenire. È vero, la guerra toglie il sorriso e Papa Francesco cita i bambini non solo dell'Ucraina, dice che li ho incontrati e questo l'ho visto nei loro visi e nei loro occhi. Richiama e ricorda i bambini della Siria, 13 anni di guerra, 13 anni, cioè ci sono gli adolescenti, i preadolescenti che avrebbero vissuto tutta la loro vita da noi in un sistema di guerra. Lo Yemen, il Myanmar, l'Africa in cui ne parleremo, lui tra poco tra l'altro il Papa ci andrà. Ma cita anche un'altra situazione che è il fatto che la guerra, i sistemi di guerra tolgono il futuro ai giovani e ricorda lo sbarco di Normandia. Qui dice certo con quell'azione noi abbiamo fermato il nazismo, abbiamo fermato il fascismo, abbiamo fermato le dittature, ma su quella spiaggia sono rimasti incastrati, insabbiati 30.000 giovani. Ora questa è la questione. Fino a quando noi confideremo sui sistemi di guerra che riescono a cancellare il sorriso ai bambini, ai più piccoli e a cancellare il futuro. E allora mi fa pensare che il sistema di guerra è prettamente funzionale a chi è già più grande, a chi non ha più bisogno di futuro, deve semplicemente e solo assicurarsi il presente. Ci ricordiamo Erode. Che cosa fa Erode? Quando sente dire che c'è un nuovo re, lui non guarda al futuro, anzi il futuro lo spaventa. Fissato sul presente e sul passato del suo potere e dei suoi onori, immagina che l'unica possibilità è eliminare e togliere di mezzo i piccoli, non solo il loro sorriso, ma cancellarli fisicamente. Ora io credo che tutte le volte che ci parlano di guerra, non si può che fare la guerra, non si può che armare, non si può che rispondere con le armi alle armi, eccetera, se dovessimo minimamente pensare a che cosa genera questo sistema, forse torneremo indietro. Perché se un sistema in nome di una difesa, in nome di una ragione, in nome di una vittoria, in nome di non so che cosa, toglie il sorriso ai piccoli, il futuro ai giovani, credo che sia un sistema fondamentalmente malato. Peccato sociale, strutturale, è un'architettura di guerra che fa male, ma soprattutto è una questione seria, perché la facciamo pagare i nostri figli e non credo che questa sia un'umanità bella. Sì, grazie Mattia. A proposito di umanità, tu sei un testimone, l'abbiamo visto, abbiamo letto sui giornali anche delle vicende, ma non vogliamo entrare su questo perché ci piace di più magari ascoltare proprio il tuo richiamo, anche qui partendo dal Natale che abbiamo davanti, da un'umanità e forse da questo bambino che fa paura e ci fa guardare anche i bambini che arrivano o che muoiono o che vengono salvati in mare. Sì, vi ringrazio, vi ringrazio molto e grazie a Don Fabio per questa sua riflessione che mi faceva venire in mente appunto tra i tanti bambini e giovani a cui appunto togliamo il futuro con le guerre e con spesso il ruolo dell'Occidente, delle nostre multinazionali, dei nostri paesi in queste guerre e tra i tantissimi appunto giovani che ne pagano le conseguenze, le persone, i nostri fratelli e sorelle che si trovano in Libia, che sono quelli con cui noi come Mediterranea abbiamo un contatto più diretto, che appunto si trovano dentro a questi centri di detenzione che Papa Francesco tra i pochi ha il coraggio appunto di chiamare Lager. Noi come Mediterranea abbiamo i contatti con molti migranti che in Libia stanno provando insieme alla società civile libica a costruire il futuro. È una cosa difficilissima, è nato tutto il protagonismo dei migranti in Libia nell'ottobre del 2021, perché è una situazione in cui i migranti vengono catturati, messi nei lager, ma a ottobre questi ragazzi si sono costituiti in movimento sociale, si sono chiamati refugiati in Libia e hanno iniziato insieme ad alcuni giovani coraggiosissimi della società civile libica a sostenersi l'un l'altro, ad aiutarsi a vicenda. Loro hanno gridato, si sono accampati davanti a una cacciare Libia, hanno gridato verso l'Italia, l'Europa, l'Occidente, la comunità internazionale chiedendo di essere riconosciuti come soggetti, come protagonisti, come veri fratelli e sorelle e di essere messi in salvo. Chiaramente l'unica autorità internazionale che ha risposto al loro appello è stato Papa Francesco, delle altre chiaramente nessuno, quindi il 10 gennaio di questo anno, nel 2022, le milizie sono intervenute e molti dei ragazzi che hanno provato concretamente a costruire un futuro diverso in Libia sono stati deportati nel lager di Ainzara, dove si trovano tuttora, dove a proposito appunto del Natale, delle immagini sacre, sono arrivate foto da dentro il lager di Ainzara, molti di loro sono musulmani, molti altri sono cristiani. Nel lager loro stessi hanno costruito il crocifisso, hanno disegnato la Vergine Maria e il Sacro Cuore di Gesù. E proprio noi, come dire, perché le loro famiglie ci riferiscono dall'Africa, vedono l'Europa, sentono dire appunto che l'Europa è cristiana e quindi loro si aspettano che l'Europa accolga i loro figli, che gli aiuti a uscire da queste prigioni e invece appunto, come sappiamo, purtroppo la loro speranza viene tradita da noi, che anziché appunto andare incontro, mettere in salvo, accogliere i figli di queste donne, di questi genitori, noi invece appunto li abbandoniamo in mare o, ancora più di frequente, li facciamo deportare in Libia dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che per un amico appunto comune, con Don Renato e con Don Fabio, che è Nello Scavo, dalle inchieste di Nello Scavo in poi, nessuno può far finta di ignorare che gli accordi Italia-Libia hanno visto un coinvolgimento notevole della mafia libica, perché Nello Scavo lo ha dimostrato in modo incontrovertibile, avendo egli, grazie anche al direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che molto coraggiosamente ha pubblicato in prima pagina di Avvenire, la foto dei tavoli tra i servizi segreti italiani e gli emissari libici e in quella foto erano presenti Abd al-Rahman al-Milad, detto Bigia, e Mohamed al-Kogia, che sono nomi magari che a noi appunto in Italia non dicono niente perché non se ne parla, ma in Libia sono noti per essere super boss della mafia libica e loro stavano a Roma, ai tavoli di quegli accordi e Nello Scavo appunto e il direttore Tarquinio l'hanno scoperto e lo hanno rivelato pubblicamente, quindi nessuno può fare finta di ignorare questo ruolo, ma poiché appunto come sappiamo i potenti sono spudorati, a loro alla fine a distanza di cinque anni da quegli accordi che vengono sempre rinnovati, non basta più essere infiltrati dentro la cosiddetta guardia costiera libica, ora hanno persino ruoli di comando, quindi ora la faccenda è talmente tanto spudorata che veramente imbarazza ancora di più le nostre coscienze. Abd al-Rahman al-Milad, detto Bigia, super boss della mafia libica ricercato dalle Nazioni Unite, non solo era i tavoli a Roma, ma adesso lui è il maggiore della cosiddetta guardia costiera libica di Zawiyah, quella che cattura i migranti in mare e li deporta nei laghi. E questa cosa appunto non è segreta, cioè è pubblica, ha un ruolo ufficiale, come hanno ruoli ufficiali in qualsiasi paese i dirigenti di questi apparati, in Libia a dirigere questa parata Zawiyah ci sta Bigia. E Mohamed al-Kogja, l'altro super boss della mafia libica, anche lui ha fatto carriera in questi anni, adesso è diventato direttore del Dipartimento per il Contrasto all'Immigrazione Illegale, che è un dipartimento ufficiale dello Stato libico, che gestisce 12 centri di detenzione finanziati dall'Unione Europea. Ma al-Kogja è indicato in tantissimi report internazionali, unanimemente, per essere anche lui super boss della mafia libica. Quindi siamo arrivati a livelli in cui il ruolo della mafia libica non è manco più di infiltrati, ma hanno preso letteralmente il potere e i nostri amici della società civile libica ci dicono guardate che la mafia libica accresce il suo potere giorno dopo giorno e gestisce le deportazioni, gestisce i lager, gestisce gli altri traffici e loro ci dicono finché voi, che siete cittadini italiani, cittadini europei, non contrasterete questo fenomeno, noi qua non ce la facciamo. Ci troveremo tra alcuni anni che il potere della mafia libica è accascata anche perché le mafie poi sono quelle più capaci di tutti di attraversare i confini. Quindi la mafia libica, sempre a venire, più volte l'ha spiegato dei suoi contatti con mafia maltese, con Drangheta, Cosa Nostra, Camorra, se noi non agiamo rischiamo appunto che il potere di questa mafia sia sempre più forte. I veri protagonisti che contrastano questa mafia, questo è importante sempre ricordarlo, sono questi ragazzi qua, migranti e società civile libica. Perché il rischio che c'è a volte, anche a livello mediatico, è di una narrazione distorta in cui i protagonisti diventiamo noi. Prima appunto ricordavamo quando Renato e Don Fabio, tra le tante cose che ci accomunano, anche la provenienza dal liceo classico. Quando a scuola, come tutti gli studenti, facevamo le analisi del racconto o dei romanzi, c'erano i vari personaggi. E c'è il protagonista, chiaramente. E accanto al protagonista ci sono gli aiutanti. A volte il rischio è che diventiamo noi, Mediterranea, noi o altre realtà, i protagonisti. Ma questa narrazione, se l'avessimo letta così la vicenda a scuola, la prof di italiano avrebbe, come dire, avrebbe dato un voto basso. Perché i protagonisti veri sono questi ragazzi qua, migranti e società civile libica. E il nostro ruolo è semplicemente quello degli aiutanti. E la tecnica della mafia libica è di attaccare noi. Per questo le mafie sono sempre furbissime. Cioè loro perché attaccano noi? Non perché siamo i protagonisti, ma perché loro dicono che se attacchiamo gli aiutanti, i protagonisti restano da soli. E questo dobbiamo sempre ricordarcelo perché sennò il rischio, tante volte che vediamo anche noi, è che si finisca rendendo noi protagonisti al posto dei migranti e dei giovani attivisti libici, che alla fine non si realizza una vera... scusate appunto, prima diceva Don Renato, studiando scienze sociali mi vengono i termini sociologici, però davvero che non si... una vera emancipazione, che però è il presupposto della fraternità. Perché per essere fratelli davvero, fratelli tutti, bisogna anche essere tutti soggetti, tutti protagonisti. Non ci può essere fraternità tra un soggetto e un oggetto, la fraternità c'è tra due soggetti. E allora l'impegno che appunto portano avanti tante realtà, appunto, Pax Christi, Caritas, Mediterranea, e che sempre dobbiamo portare avanti, è anche quello di far capire alla società e al mondo non solo la pericolosità della mafia libica, ma anche che dobbiamo rendere sempre di più protagonisti, a tutti gli effetti, queste persone migranti che lottano e questi giovani della società civile libica che con coraggio enorme affrontano sul campo questa mafia. Sì, grazie Mattia. Credo che sia stato davvero un modo un po' originale di fare gli auguri di Buon Natale, non molto pietistico, non con le musichette, ma di guardare in faccia a questa umanità e potremmo andare avanti per ore e ore, scusate, a raccontare di questo. Io, prima di lasciarvi una battuta a testa, ricordo a chi ci sta seguendo che c'è la Marcia Nazionale per la Pace, quest'anno la 55esima Marcia Nazionale per la Pace, ad Altamura, pomeriggio sera del 31 dicembre, e il messaggio del Papa quest'anno è che nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace. Ci saranno testimonianze, rilanceremo la campagna perché l'Italia aderisca al trattato contro la messa al bando delle armi nucleari. Ascolteremo testimonianze di obiettori di coscienza dalla Russia e dall'Ucraina. E questo ci aiuti anche a prepararci al Natale. E poi sappiamo che il Papa andrà proprio in Sud, Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, i primi di febbraio. È un modo anche questo di vedere il mondo con i protagonisti che non sono sempre sulle prime pagine dei nostri giornali. Siamo arrivati a circa 15 minuti. Una parola a ciascuno per chiudere, per augurare Buon Natale, per salutare chi ci ha seguito. Il microfono Fabio, il microfono. Scusate, per me è semplicissima grazie Mattia perché ci hai ricordato, e questa volta ci sfugge, che i protagonisti sono i piccoli, gli ultimi, quelli che apparentemente non hanno il potere, hanno solo la voglia di vivere. Noi a volte abbiamo il potere, abbiamo perso la voglia di vivere, e questo ci rende veramente dei criminali nella storia. E credo che anche le narrazioni di questi giorni del Natale ci accompagnino bene a questa prospettiva. Grazie a voi. Io aggiungo solo una piccola parola sul Natale che si rilascia al tema del protagonismo dei poveri, perché l'ho sentito un po' di tempo fa. Adesso non ricordo neanche più, me ne ha proprio, non è una lettura mia. L'ha fatta qualcuno, ma studiando per gli esami non ho rimosso chi è stato, quindi non voglio rubare il copyright, ma avevo sentito in questa riflessione questa cosa molto interessante, che appunto noi sappiamo il significato che Gesù nasce a Betlemme, non nasce a Roma, non nasce in luoghi del potere, nasce in una grotta, nasce marginato. Ma la cosa che avevo letto è che addirittura gli abitanti di Betlemme, dice chiaramente il Vangelo che loro hanno ricevuto, hanno saputo che è nato Gesù, non dagli angeli, ma dai pastori, perché gli angeli hanno portato l'annuncio ai pastori. I pastori hanno visto, i pastori hanno riferito, e come sappiamo i pastori erano tra i tanti scartati, tra i tanti emarginati. E quindi il Vangelo ci sta anche dicendo che se noi non ascoltiamo direttamente la voce dei poveri, la voce degli emarginati, noi non riceviamo l'annuncio del Vangelo. E quindi un ulteriore invito che è presente nel Natale è proprio quello di riconoscere il protagonismo e la fraternità vera con gli scartati di oggi, perché tramite loro, ascoltando loro, guardandoli, amandoli, riconoscendoli e vivendo con loro come veri fratelli e sorelle, che viene annunciato anche a noi in modo misterioso la grande gioia appunto che Dio è con noi, che Dio è in mezzo a noi, lasciarsi evangelizzare dai poveri, come dice il Papa. Ecco, credo che anche questo ci venga ricordato dal Natale e appunto dalle figure che compongono Natale e che vediamo appunto in tutti i presepi nelle case. Bene, allora grazie. Avremo modo di risentirci. Credo che le vostre parole siano state di aiuto a tutti quelli che ci hanno seguito. Salutiamo tutte e tutti e auguriamo davvero di camminare sulle strade che ci indica il Vangelo. Col passo degli ultimi, diceva Don Tonino Bello. Un abbraccio Mattia e Fabio. Grazie a voi.